Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! I would never do such a thing. What? Beg on show? Hey! Hoi! O mio amore di Dio! Pio che carino! Puta che pari Heuseppeira! ...dessò tirare una foto di questo, per il mio amore di dios... Ma che foto buona! Che foto buona! C'è me piaccato di sorpresa! Parabéns, Charles! C'è me arrancato una risa d'onesta! Non ho pensato che io saremmo... Come questo meme che sta! Oh 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 da gewesen, auf Twitch oder sowas, gar nichts, nada warte und er ist dann dort vor Ort Digga, niemand kann auch wissen wer das ist dann, oder? Digga, ah ne, vor 8 Tagen vor 20 Tagen, Digga holy shit Got them back Looks like Selbit's fucking shoes Right? Hey, where the fuck is Holden, man? I'm the captain of this Who fucking told you guys about this free house, huh? Who told you? Who told you about this free house? Who told you about this free house? You didn't know shit, man What the fuck? I don't know What the fuck? I got fucking magic too, pussy What the fuck? Ah, stop, alright, alright Chill, chill, chill I'm sorry I'm blowing the horn Okay, stop, 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 stop Listen Last fucking time we will Kill, man Last time we were doing this shit I spent like fucking 30 hours wasting my time on the mic Ah, si te pega No? Okay Creo que si Entonces, bueno Me voy del addition No Al la mierda Que es esto? Morí No, Sven! No lo puedo creer No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Sí, 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 hace pija eso Fufu, pega mucho Uy, no No, se me hizo pija Fufu, re cagado Ya está, boludo Al la mierda No, se me hizo pijaos 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 . 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 In questo video sammle tutti i teri palluten in Craft Attack 11 e micenere i erster Shop. Erste? Cosa vuoi? Per la cosa vuoi? Per la nostra libertà. Per la vita, un belagio di Adgaria. Per la mia famiglia è felicità. Per la mia figlia di un' argue con il mio figlio di un ho potenziale di chassi. Per la mia ragazza, per i lasciare un'重要. Per la mia ragazza non è un amere. Per la mia ragazza. Per la mia ragazza. no one no one let's um let's get over to phelps's square Ramon um wait Ramon if I had shoes between the two would be a dad all right let's go let's go let's go phelps's square phelps's square lo possiamo mettere come consulente della io qua sono andato un attimo avanti vuoi vedere signor giovanni certo mi faccio vedere lo metto un attimo qui aspetta non ce l'ho più che è successo signor giovanni mi sa pervenire un effesema no l'hai impiccato io ti giuro l'hai impiccato che cosa è successo con questa creatura io non lo so nemmeno ma si è presa la morte più ignobile non lo so nemmeno il fatto non mi fare la morte più ah no no me asusten la siena in questo gioco pa che che mi rai barat pa che che mi rai con il bate me encanta che me subo in arriva di la messa e che mi rai barat amigua se me paralizzò il corazon america casi mi muero in directo per la culpa. ok, lo faccio boss bereit sei per il clip Yannick, Achtung es geht los Freunde oggi gibt es die grosse Roleplay Action in Craft Attack 11 denn heute kriegen wir ein unschlagbares Angebot von Paluten über das Schwein Willi, das sich unschlagbar nicht ausschlagen lässt außerdem gibt es noch eine Biggerichtsverhandlung weil Schweine getötet wurden, wenn euch das ganze gefällt wir werden da schon super gerne auf Twitch vorbei und lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr Roleplay sehen wollt Wahnsinn, boah, das war gut geactet boss jawoll oh god, hurry up oh oh why can't I throw a fucking pearl why did it never throw a pearl it never threw the pearl, dude why did it not throw the pearl why didn't it throw a pearl bro why didn't it throw a pearl Grazie.